Eccoci qua, buonasera a tutti! Qui ci stiamo per andare a allenare, sto aspettando un mio amico quindi magari ci scappa anche il video workout che avevo promesso da non so quanti anni, forse e quindi vi faccio vedere qualcosina dell'allenamento poi stasera vado a vedere Thor, io da grande fan dei film Marvel li ho visti tutti, quindi questo non me lo posso perdere poi domani Rosina ritorna che facciamo il weekend qui, che c'è il mare e tutto e poi settimana prossima prima o poi dobbiamo tornare nella city quindi facciamo quest'ultimo weekend di mare ci vediamo dopo Buongiorno, rieccomi, sono apparsa nuovamente perché io ogni tanto faccio così, però ormai mi conoscete, sparisco, riappaio e insomma, e anche ieri sono sparita nel nulla mi sono volatilizzata come solo io so fare questo perché? Perché mi sono voluta godere dall'inizio alla fine l'evento di GHD ogni anno da due anni circa GHD realizza una campagna ad hoc a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi per urlare ad alta voce quanto la prevenzione sia fondamentale l'autopalpazione può salvarci la vita e questo GHD ce lo ricorda ogni anno e io sono felicissima di essere insieme al loro team e sostenere questo importantissimo messaggio oggi realizzeremo un video apposta e quindi vi invito a seguirlo se vi va e vi mostrerò nelle prossime storie l'experience di ieri GHD